Marco, un gol sfortunato nel finale, aveva ripreso il Vienna per tre volte di fila, adesso un gol sfortunato appunto. Sì, è stato un gol sfortunato, come detto a te, un tiro andava dietro la porta, ha bregato il pattino, il bastone di qualcuno, è entrato e è andata così oggi. E' questo il vero Bolzano, perché siamo abituati a vedere un grande Bolzano contro le grandi squadre, poi contro le piccole magari un po' si molla, qual è il problema? Il problema penso è che ogni partita dobbiamo sempre venire pronti per giocare come se fosse venuto il Salzburgo contro il Vienna, adesso domenica dobbiamo fare la stessa partita, solo a Innsbruck, giocare è semplice, duro e crederci per 60 minuti. Che vi siete detti con coach Poker, ci avete parlato? No, ancora no, non c'era tempo prima della partita e adesso vediamo se passa di qua, sicuramente scamberemo due parole.